Grazie a tutti Grazie a tutti Sì, mi sa che ci conviene perché vedo che non si accende proprio Non hai segni di vita 1, pronti, lancio Questa è già la combo pronta per il torneo di Metal Master Questa è la combo pronta per il torneo di Metal Master Ah sì, è vero Chris è il battesimo del fuoco Mi è scappato da un'altra parte Ok, perché così incontriamo Così lo sentiamo Mandi solo un messaggio Ma cosa ha fatto? Ha tornato indietro? Non dare il numero per chiamare No, adesso si è fermato Nautogrill Sì, sta bene Dobbiamo Sarà delle partiti Un po' prima di Polonia C'è più da lui Poi Chris Più si avvicina e meglio Pari 2, 1 Pronti, lancio Ho imparato a studiare i pari con i metano Ti ricordi quel mezzogiro che avevamo indicato Quella volta che ti fessi male al ginocchio C'è Lo andavamo mentre in ultra orientatore il video per capire No, non c'era nessun mezzogiro È più impegnativo nei bus No, i bus è per i busci che è più impegnativo Non guarda, non c'è Pari Pari 3, 3 Sono questo 3, 2, 1 Pronti, lancio Guarda, dove? Un panieggio 3 Wow No Un mezzio Un po' sicuro quello No Guarda, sbagliate, potevamo usare anche lui Quella leggera Se non me corrisponde Quello si Un po' sicuro Io sono la regina delle sponde Cheat master Cheat master Ho preso più sponde che quei di master E con quelli di average ragazzi che non possono Un po' sicuro Un po' sicuro Non fa Ragazzi Come si Un po' sicuro Un po' sicuro Un po' sicuro No Un po' sicuro Cheatrando Un po' sicuro puoi andare e tornare? a mezzogiorno e un quarto e che dobbiamo mangiare? mi vivo a mezzogiorno e fornante senza preparare pari non rischia perchè sa che io ho né tante le sponde e anche dopo tu vedi la sponda che si sposta per me per te che ho trovato lo spazio poi la prima di oggi si deve fare il montaggio la prima volta va bene si ma però abbiamo meno si sei metal non del mister disoro ma ti pare che di boss non ti lo fai di cellulare e faccio video a random a questo tipo di presser a costo di intasare il telefono e quando lo appoggi inizia a girare da solo come una torta si meglio che di no no si no ci vorrebbe la videocamera in 3d per esempio quella che devo dare tutto può girare il drone facciamo si il drone come un aerea ciò puoi cambiare anche il quadretore che vuoi avvicinare il drone lo vedi che il tasto si viene BOOM è stata ma natale dai che qualcuno viene in testa vai vai uno pronti oh ce l'ho qualcosa no ce l'ho qualcosa ho mangiato un po' di sinistra guarda si si vuole per andarmi eh ahahahahah ahahahahah si aspetta che vado con nessuno ah vabbè mangiate tutti qua si si uno mangia lì di fuori si mette lì oh sto Lidl un mese e mezzo fa non c'era niente l'ho fatto già tutto perché a ottobre dovremmo rinagurare a ottobre facciamo il drone all'idea basta facciamo il drone all'idea banca o frigo sta insomma a prendere la pasta abbiamo trovato il parso la prossima i porti di paghi anche qua abbiamo trovato il posto da fare il turno la prossima volta a Ravenna 50 euro ma è uguale figa c'è il barco il tavolino all'aperto mani 3-3 guardalo 3-2-1 ti smesso ti smesso io ti smesso dai che manco lo slide caffè via via delle pareti guardalo che attacco l'ho messo in gran metal face super leggero super piuma no ma non te non vai a mettere la face di dentro ok ma adesso ammazzati uno uno pronti marcio tirano via no guarda che corete corete vieni basta wow pronti e marco 3-0 via 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 corete via via corete 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 ma uscirà 3-0 gooo scusa via 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 guardalo видно guarda che venuti vei LOL però si guarda io qual è che hon e è bello pesante Leo okay tre due uno pronti Ilan no, no non so allora, farlo piccolino in ogni momento, in ogni luogo, in ogni lago, in ogni monte poi la sfida lo richiami tu l'hai nominato prima prendere Bologna a Buona eh, infatti l'ha nominato lei lo richiami tu? ah, dai, stupi 3, 2, 1, 8 uuuuh uuuuh riserva che è andato uuuuh quando lì sta lì ha detto quando si chiama bene hai sbagliato l'alcio da quando prima mi ha incitato a Buona e ha detto oi sto giochi serio o in agosto adesso non ci sono tre e non puoi saltare è un problema, è un grande problema uuuuh 1, pronti Ilan oh, fai pronti il 69 no, fai pronti contro il leone infatti ma vale che il top il distacco mi viene? no, 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 no è come se non puoi andare fuori è ucciso sono usciti insieme però da fuori ok ok 3, 2, 1 pronti Ilancio no, no, no no sembra il cambio della macchina quando non premi la frizione 2, 1 pronti Ilancio no, sembra il cambio della macchina quando non premi la frizione parola vai 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 e il cammino al cielo 3 2 1 zapater 1 pronti 3 2 1 pronti 3 2 1 pronti 3 2 1 pronti